Gli studenti della seconda D della scuola Leonetto Tintori, con fantasiosi decori ispirati al mondo della musica, hanno vinto il primo premio per la sezione Quale t-shirt indosso oggi, scelgo la mia nelle capsule collection, nell'ambito del progetto e di modo il mio futuro. A secondo posto la seconda A della scuola Domenico Zipoli, che si è ispirata al tema della valorizzazione della diversità. Terza, ancora la scuola Leonetto Tintori, con la classe seconda C, che ha lavorato sul tema impegnativo del rapporto fra amore e violenza. Mentre per il concorso la giacca e il tessuto che fa la differenza, dedicato agli istituti superiori, il gradino più alto del podio è toccato a un gruppo di studentesse della classe quinta C dell'Istituto Tecnico Buzzi. Ovviamente vedere il tessuto realizzato è sempre una grande emozione, perché noi lavoriamo al computer, nella parte di progettazione, ma non abbiamo mai un'idea di quello, o comunque solo poche volte, un'idea di quello che poi viene realmente realizzato. E quindi vederlo realizzato proprio così non ce l'aspettavamo, è stata una grande emozione e ringraziamo ovviamente chi l'ha reso possibile e chi l'ha prodotto. Obiettivo di Rimoda il mio futuro, giunto alla sua settima edizione, rimane la valorizzazione presso i giovani delle opportunità professionali offerte dal tessile abbigliamento. Sarà sempre meno importante una produzione, tra virgolette, industriale, sempre più importante una progettazione industriale, un'attenzione a tutti quelli che sono i contorni di un prodotto, ovviamente il prodotto sarà sempre importante, che dovranno essere gestiti, implementati e anche un po' di fantasia dalle nuove generazioni. Grazie.